Prima ancora dei portoni della cattedrale di N.S. dell'Orto a Chiavari, sono i cancelli del Centro Benedetto Acquarone a spalancarsi per accogliere il nuovo Vescovo. L'ingresso di Monsignor Giampio De Vasini in diocesi ha un prologo in quella che Don Nando definiva la città nella città. L'arrivo in piazza N.S. dell'Orto precede di alcuni minuti le 17. Il Vescovo attraversa i settori in piazza accolto da un applauso che si fa più forte nel momento dell'abbraccio con il Vescovo emerito Alberto Tanasini. Il sindaco di Chiavari porge il saluto a nome degli amministratori del Tigullio. Abbiamo un lungo cammino da percorrere insieme, sfide preziose da affrontare e da oggi siamo impegnati a farlo avendo come imprescindibile riferimento il suo altissimo magistero spirituale. Il Vangelo risponde il Vescovo che vorrei annunciare nella quotidianità e nella serialità degli incontri senza giudicare ma stabilendo con tutti un'amicizia disinteressata e la sola risposta a quell'attesa di pienezza di vita che abita nel cuore dell'uomo. Il rito prosegue con alcuni gesti simbolici. Monsignor De Vasini rende omaggio all'immagine di N.S. dell'Orto, bacia la croce che gli porge il prevosso della cattedrale, asperge se stesso e i presenti per ricordare la comune dignità battesimale. Quindi all'altare della Madonna il saluto dell'Arcivescovo Metropolita, le parole di benvenuto del Vescovo Tanasini, la lettura della lettera apostolica di nomina. Francesco Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giampio Luigi De Vasini, del clero della diocesi di Casale, e lì fino ad oggi vicario generale, nominato Vescovo di Chiavari, salute ed apostolica benedizione. La consegna del pastorale segna il passaggio di consegne al nuovo Vescovo.